Un terzo della produzione mondiale annua di cibo finisce nella spazzatura. Ogni europeo spreca in media 180 kg di cibo all'anno. Lo spreco alimentare comporta una serie di gravissimi impatti sul piano economico, ma soprattutto sul piano ambientale. Le perdite e gli sprechi avvengono nelle diverse fasi della filiera, che sono il campo, l'industria, la distribuzione e il consumatore finale. A livello europeo la percentuale maggiore di spreco, ben il 42%, avviene in ambito domestico. Cosa si può fare? Ecco alcune semplici mosse per mettere a dieta il bidone della spazzatura. Limita l'eccesso di acquisti. Fai la lista della spesa e compra solo ciò che ti serve davvero. Presta attenzione alle etichette. Quando troviamo da consumarsi entro, il prodotto scade nel giorno indicato, mentre quando troviamo da consumarsi preferibilmente entro, il prodotto può essere consumato anche dopo. Controlla periodicamente frigo e dispensa. Porta il cibi a breve scadenza in avanti. Usa il cibo in modo creativo. Avanzi e scarti possono essere riutilizzati in nuove ricette.